Partito Aspetta Il demolo di Riemondeto Scena 10 B take 4 Azione Non parlare per la croce del Calvario Non fiatare Dov'è Zagrino? Zagrino se sei che cazzo No cazzo Era venuto benissimo Dov'è Renato? Com'era questa? Questa era perfetta Era venuta benissimo La cantera su piedi Ma io devo Io devo andare a cantare Devo andare a di qualcosa Riaccedo, riaccedo, riaccedo Aspetta Azione Zitti Allora fermi Tornati indietro Non lo smetti Ho capito male No 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 Dico di stare zitti Chi è che parla? La Sara Allora può parlare? No Nel transito pure lei È l'unica che c'è il permesso Silenzio Ti faccio il take normale? Sì 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 Allora Motore partito Partito Allora il demone di il mondietto Scena 10 E D take 1 Piano d'ascolto Una parola Giovanotto Cosa vuoi? Un servizio Un semplice servizio Qua Che rimangiate a casa Quel povero Stronzo di Renato E a fare Vai Motore partito Guarda loro Perché sono nella posizione giusta Balletini fai il serio Con quei capelli E quel coso lì Come fa a fare il serio Con me sola Con me sola Con me giugno Con me giugno Poi con le mani giunte Ma lui è Paolo Brozio? Sì Mettile mani per bene Non ci venda Non bene Ci metta a te Che poi dopo buttiamo via tutto Si mette a pregare Si mette Motore partito Ci ha Il demone di il mondietto Scena 10 D Take 2 Azione Una parola Giovanotto Cosa vuoi? Un servizio Un semplice servizio Quale? Non ridere Andiamo avanti ragazzi Sennò si fa felice C'è il demone di il mondietto Scena 10 D 3 Take 3 Piano d'ascolto Le mani per bene No 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 Lui Attenzione Una parola Giovanotto Cosa vuoi? Un servizio Un semplice servizio Quale? Che rimandiate a casa Quel povero diavolo Non vado a spiattare Un servizio Un servizio Dai ragazzi Vai Fatta qui Ho sempre Un servizio Mattito Muoviamoci Se no facciamo Dai Allora Ciak Il demone di il mondietto Leggermente più a sinistra Leggermente più a sinistra Leggermente più a sinistra Ma non davanti alla luce Aspetta Ma tu a sinistra Sì Ma non davanti alla luce No 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 Deve stare alto Perché Deve stare alto C'è la mia ombra lì Vabbè No La giù non mi importa L'importante non sia sul lì Ah sì sì È vero Bene Ok E sta andando Aspetta Aspetta Demone di il mondietto Scena 10 D Take 4 Piano d'ascolto Silenzio Alberto A posto Mi raccomando Signore fai serie Inizio dall'altra parte Vai Azione Una parola Giovanotto Cosa vuoi Un servizio Un semplice servizio Quale? Che ne mandiate a casa Quel povero diavolo di Reinaldo E a fare le conti Io non c'entro Non c'entro Menni Sei pazzo? Voglio provare per Dio A questo Ribaldo Che io son pazzo davvero Scusate Cazzo Cazzo Oh cazzo